Benvenuti su Super Gossip, il canale che vi tiene aggiornati su tutto quello che accade nel salotto più famoso della televisione italiana. Uomini e donne. Oggi vi raccontiamo di una puntata davvero movimentata, con protagonista Sabrina, che sta conoscendo due cavalieri, Diego e Maurizio. Tra battibecchi, frecciatine e rivelazioni inaspettate, la scena si è trasformata in un vero campo di battaglia. Con Tina Cipollari, pronta ad affilare gli artigli, pronti a scoprire cosa è successo? Cominciamo subito. Ria De Filippi ha aperto la puntata chiamando Sabrina al centro dello studio, pronta a raccontare il suo percorso con i due cavalieri. La dama ha dichiarato di voler continuare a uscire con Diego, nonostante la differenza di età, ma a interrompere il suo discorso è stata, come sempre, Tina Cipollari, che non ha perso occasione per metterla in difficoltà, la pungente opinionista ha lanciato una frecciatina diretta a entrambi i cavalieri. Ma il reale interesse di Sabrina non è forse Gabriele. C'è un altro uomo che... Una provocazione che però non ha alla fine, non ha scalfito la determinazione di Sabrina, la quale ha risposto con tranquillità, ribadendo la sua intenzione di continuare la conoscenza con Diego. A quel punto Tina ha rincarato la dose, sottolineando con sarcasmo la differenza di età tra Sabrina e Diego. Diego è più giovane? Vuole andare avanti con lui perché è più giovane? Ma non ti sembra ridicolo? Una critica che ha acceso il dibattito in studio, con Maria De Filippi pronta a intervenire per difendere la dama. La conduttrice ha risposto con una domanda tagliente. Ma se non è un problema per lui, perché deve diventare un problema tuo? Se un uomo sta con una donna più giovane va bene, ma se è il contrario no? Una frase che ha subito messo Tina in difficoltà. Soprattutto quando Maria ha tirato in ballo il suo passato. Ma tuo marito non era più giovane di te? Mi pare di sì. E anche allora ci furono segnalazioni su di voi. Questa volta la Cipollari non ha saputo replicare come suo solito. Visibilmente infastidita, ha cercato di chiudere il discorso, dichiarando È già stata una giornata faticosa. Basta, eh? Una resa momentanea che però non ha placato la tensione in studio. Maria ha poi riportato l'attenzione su Sabrina e i suoi cavalieri, chiedendo alla dama quali fossero le sue intenzioni con Maurizio. La risposta di Sabrina è stata schietta e diretta. È una decisione che deve prendere lui, sapendo che io comunque ho baciato Diego. Una dichiarazione che ha scatenato una nuova ondata di polemiche. Tina è tornata all'attacco, accusando Sabrina di voler tenere Maurizio in panchina, mentre esplora la sua attrazione per Diego. Che intrighi che fa! Vuole mantenere lui come riserva perché non si sa mai... Un'accusa pesante che ha diviso il pubblico e il parterre. In difesa di Sabrina è però intervenuto Gianni Sperti, che ha apprezzato la sua trasparenza. Ha detto le cose come stanno e questo è segno di sincerità. Mattina, per nulla convinta, ha ribattuto con il suo solito sarcasmo. Sabrina è sincera? Ah, 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 ma per favore, è un opportunista. Una frase che ha fatto esplodere un'altra discussione in studio, con pareri contrastanti tra i presenti. Insomma, anche oggi il salotto di uomini e donne si è trasformato in un'arena di scontri verbali e colpi di scena. Sabrina riuscirà a far cambiare idea a Tina. Maurizio accetterà di continuare la frequentazione nonostante il bacio con Diego e Diego sarà davvero la scelta finale della dama. Restate connessi su Super Gossip per non perdere neanche un dettaglio. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. E, come sempre, diteci nei commenti voi da che parte state. Alla prossima con Super Gossip.